Il Museo Civico Fidenate di Castel di Sangro ha aperto la stagione estiva con un calendario ricco di grandi appuntamenti. Nello splendido chiostro quattrocentesco dell'ex commento della Maddalena, ieri sera una serata tra musica, vigne artigianali e sfiziose proposte gourmet. L'ensemble piano piano ha alliettato la serata con musiche di Rossini, Joplin, Beethoven e tante colonne sonore, con brani che spaziano dal classico al jazz al moderno. Si tratta di quattro artiste che hanno conseguito a pieni voti la laurea magistrale in pianoforte presso il Conservatorio Casella dell'Aquila. Il numeroso pubblico presente ha molto apprezzato questo binomio tra musica e degustazione enogastronomica abruzzese, messo su ancora una volta dal dinamico direttore del Museo Civico Fidenate, l'architetto Mario Reinaldi. Musica e cibo hanno uno stretto legame perché il suono può cambiare la percezione del cibo attraverso il coinvolgimento dei sensi. Un connubio perfetto che fa parte della storia dell'uomo e della sua evoluzione. Note piaceri della gola, infatti da sempre, regalano grandi emozioni e le prime possono influenzare la percezione del cibo. Nei prossimi giorni altri appuntamenti nel chiostro dell'ex convento della Maddalena.